Tutti i legati da risportire a 25.950 euro e paghi da 16.000 euro. Ti aspettiamo sabato 20.000, secondo me l'Italia non me lo chiede. Con il prosciutto e il farmaccio di una strigola comprensione. Un po' che lei è tutto, è un miaccuso. I cordobratti navissimi vuole tacchino a 100% italiani, in una crocante panatura. Ma non mi faccio il suo valore. E' un po' che lei è tutto. La boclea, ho il potere di combattere i problemi della luce. La boclea, ho il potere di combattere i problemi della luce. La boclea, ho il potere di combattere i problemi della luce. Trova la mia pianta, ho il potere di combattere i problemi della luce. La boclea, ho il potere di combattere i problemi della luce. Oggi apri e chiudi, la nuova tramite confezione per cucinare facile. Una serie divertente, una serie divertente con due matti, una serie divertente con due matti che fanno soldi, una serie divertente con due matti che fanno soldi ripetendo champusai e comprati all'azda. La boclea, ho il potere di combattere le cose. Ma anche il nostro divertimento, nessuno corre di testo. Tutti le teste è laperdimenti della nuova stagione che vi sento appuntio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono le prime luci dell'alba a Porco Pine Creek, Alaska. Per ora, ai minatori è stata risparmiata altra neve. In una corsa contro il tempo, Chris ha sorvegliato le pompe tutte per permettere al Jet di arrivare al suo strato e raggiungere l'oro. Sì, è un bel buco, questo è sicuro. Cioè, credo lavorando tutta la notte per far andare le pompe. E sono molto orgoglioso di lui, perché adesso lo vedo. Grazie a tutti. Grazie.